Il Consorzio Coopera nasce nel 2005 per raccogliere l'esperienza di differenti società cooperative che già da molti anni operavano nella fornitura di servizi in svariati settori industriali. L'ortofrutta, con particolare riferimento alla quarta gamma, l'industria alimentare e dolciaria, la meccanica e il settore delle verniciature industriali, le aziende farmaceutiche, cosmetiche e dell'abbigliamento. Siamo in un mercato in cui le imprese hanno abbandonato le rigidità degli schemi precedenti. Servizi, strutture e interi reparti vengono appaltati all'esterno al fine di ottimizzare costi, aumentare efficienza e produttività, conservare il margine. È cambiato la sioma generale sul quale si regge il sistema. Siamo passati dalla volontà di difendere il posto di lavoro alla necessità di difendere il lavoro. Ci sentiamo pionieri nel settore cooperativistico, avendo compreso prima di altri le esigenze dell'attuale storica rivoluzione culturale, che impone sempre maggiore flessibilità. Il consorzio è la forma che abbiamo consapevolmente scelto perché, collaborando, possiamo aprirci a nuove possibilità, implementare il nostro know-how, acquisire collettivamente strutture e impianti, essere più autorevoli nei confronti di interlocutori istituzionali e finanziari. Oggi le nostre cooperative offrono alle aziende servizi per tutte le lavorazioni di inizio e fine linea, attraverso più di 350 soci lavoratori selezionati e formati con cura. Ogni nostro socio lavoratore è consapevolmente orgoglioso di esserlo. È parte attiva di una società che ha scelto la trasparenza fiscale e contributiva e la via della sicurezza e della prevenzione di malattie e infortuni, che rispette i suoi diritti e le tempistiche di pagamento, che usa l'ascolto come potente leva di crescita.